Gentili telespettatori, buona giornata, viene tolto alla vigilia di Natale, viene comunicato a Minzolini l'ex direttore del Tg1 che non condurrà più stasera Italia. La sua colpa sarebbe lo stile troppo poco aggressivo. Quindi il talk show di Rete4 gli viene tolto, lui dice non ho capito perché. Dice il giornalista non l'avevo cercato, me l'avevano proposto loro. Lui tenta di dare una spiegazione che non trova. Il regalo di Mediaset pochi giorni prima di Natale annunciandogli la fine anticipata della sua esperienza come conduttore nel weekend dello show Stasera Italia su Rete4 non è stato proprio molto gradito. Lui che era direttore del giornale, del Tg1, senatore di Forza Italia non vuole parlarne. L'idea di passare per vittima non gli piace. Ma qualcosa fa trapelare. Fa parlare in modo del giornalismo e della politica. Le ragioni che avrebbero motivato lo stop, lui dice sinceramente non l'ho capito. Però non avrebbero capito, in Mediaset, i modi troppo compassati e cortesi con cui gestiva la discussione nel salotto televisivo. In netta controtendenza rispetto agli usi abituali e di quelli di Rete4 in particolare dove c'è Mario Giordano che grida, Del Debbio che dice un po' di parolacce. Hanno detto sto Minzolini è un po' troppo blando. Ma attenzione, realmente quando poi si arriva a criticare e sospendere un programma perché è troppo blando, si arriva a questo punto dopo i numeri. Allora, se questo Minzolini avesse avuto uno share degli ascolti alti avrebbero detto Wow, il suo modo pacato è vincente! Quando poi gli ascolti sono bassi ti dicono il suo modo pacato non piace al pubblico, ci vuole uno che grida. Guarda Giordano, eccetera, eccetera. Quindi alla fine il tuo modo di fare la trasmissione non è che è criticato oggettivamente, è criticato in base agli ascolti. Se gli ascolti vanno bene tu sei fantastico, se gli ascolti vanno male il tuo modo di fare la conduzione fa schifo. Quindi è un giudizio dopo aver visto, perché l'unica cosa che interessa sono gli ascolti. Perché? Voi direte ma chi se ne frega di sti ascolti? Se tu hai un programma che ti piace lo mandi in onda. E no, perché le pubblicità che ci sono in quel programma pagano una parte fissa e una parte variabile. La parte variabile è in base a quante persone l'hanno visto. Se il programma lo vedono 200.000 persone pagano 10. Se il programma lo vedono 400.000 persone pagano 20. Se lo vedono 600.000 pagano 60. Quindi più è visto un programma più ci sono pubblicità paganti. E più pagano e più guadagna la rete televisiva. Questo è di fatto. Quindi quando un programma viene chiuso è perché lo guardano in pochi. E l'idea che si è fatta a Minzolini è che forse i modi troppo gentili e cortesi nel salotto televisivo non funzionano. E Minzolini dice è una questione di sintassi giornalistica. Io ho il mio stile. Quando faccio il conduttore lascio da parte le mie opinioni e cerco di mettere a confronto le idee senza scatenare inutili risse. E Minzolini però non hai capito dopo tutta questa esperienza che hai televisiva e giornalistica che agli italiani piacciono le risse televisive. Piace quello che grida capra capra capra. Quello minaccioso quello che grida quello che insulta. Lo scontro tra vax e no vax. Lo scontro tra pro e tra negazionista del clima e l'altro. Ecco oggi l'italiano medio vuole vedere il trash in televisione. Va alla grande o le tragedie. Poverino sai cosa gli è successo. O le tragedie o quello che grida girando col monopattino in trasmissione. Questo vuol vedere la gente. Se tu fai un programma pacato, molto gentile, la gente cambia canale. Perché la gente vuole vedere il dibattito tipo da Floris o da Formigli dove la gente si alza, grida, se ne va, si parlano sopra. Se no la gente cambia canale. Capisco che il suo modo di fare televisione è quello, ma non è redditizio. Lui mi dice io che so dovevo fare, dovevo gridare. E purtroppo funziona così. Ma l'ex direttore ha comunicato ai telespettatori la fine dell'esperienza da conduttore. Nella puntata della vigilia di Natale dice è terminato il nostro tempo a disposizione, così come il mio ciclo alla conduzione di Stasera Italia. Un ciclo durato solo tre mesi. Un periodo decisamente breve, comunque non stabilito al momento in cui fu assegnato l'incarico. Che peraltro ha visto un breve periodo di singolare convivenza alla condizione con la collega Safiri Aleccese. E quindi hanno provato a mettergli qualcuno vicino per animare la discussione, però la discussione non si è animata. Il suo stile di conduzione è quello, pertanto il programma è stato visto poco. Perché funziona la rissa televisiva. Le gridate funzionano. Perché quando gridi la gente non cambia canale o si ferma sul canale a dire Anvedi che roba, teribile, teribile. Se tu lo metti sul canale e senti, allora parliamo del MES che non è stato. Dice, vabbè cambia canale, va. Questi non riesco neanche a sentire bene. Ecco. Beh, insomma, l'annuncio dello stop è arrivato a freddo solo pochi giorni prima del Natale. Dice, era un'eventualità sempre possibile in questo lavoro, Ma non si può certo dire che fosse un evento annunciato. Dice, sinceramente non me lo aspettavo, non mi aspettavo una cosa del genere. Vabbè. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. O meglio, forse questo è l'ultimo video di oggi. Ci vediamo per la rassegna stampa domani, mattina, molto presto, diciamo di notte. Ecco. Verso l'1 alle 2 di notte c'è la rassegna stampa ogni giorno. Grazie nuovamente. Ricordatevi che c'è anche poi Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai-da-te. Poi questi video sono tutti condivisi in Facebook, nella pagina Teleitalia. Grazie e arrivederci a presto.